Ne abbiamo parlato proprio in queste ore attraverso un'intervista alla signora Chiro nella puntata odierna di Vox Populi trasformare il viale della Repubblica in viale dell'artigianato l'idea che stanno portando avanti alcune persone titolari di attività della zona so che Assessore Azzaretti lei ha già avuto modo di parlare con alcune di queste persone No, non ancora io credo che sia un'iniziativa degna di grande plauso e di grande lode se riescono a organizzarsi direi, io soliciterei loro già da adesso rivolgersi a un'associazione perché io non posso comunque come Assessore rispondere a una commerciale per necessità particolari sì, però per l'organizzazione di iniziative di rivolgersi a un'associazione che faccia da capofila e con cui io possa interagire a livello istituzionale per cui tramite un'associazione si presentano a me e insieme possiamo con il loro progetto e assolutamente sono più che felice di sostenerlo Ecco, qualcuno sostiene che il viale della Repubblica andrebbe lasciato stare perché è molto trafficato e dispone di pochi parcheggi forse non è il posto ideale e la pensa anche lei come loro? Ma io credo che ogni iniziativa quando è importante ed è significativa e soprattutto parte dall'entusiasmo, dalla voglia di fare, di chi è coinvolto allora va sostenuta la soluzione operativa si trova, ci si lavora sopra per trovare la soluzione operativa mi piace però questo iniziare a pensare anche io ci devo mettere del mio perché non si può aspettare sempre che cali dall'alto bisogna tutti davvero tirarsi sulle mani la filosofia giusta si si, collaborare, collaborare e rendersi visibili e impegnarsi per rendersi visibili grazie prego a voi